Ben trovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione su TRMH24. In primo piano la cronaca, i medici della provincia di Foggia scenderanno in piazza per dire basta alle aggressioni nei reparti ospedalieri e chiedere l'istituzione di un posto fisso di polizia al Policlinico Riuniti. I medici della provincia di Foggia sono stanchi, non vogliono più subire aggressioni, minacce, violenze fisiche e verbali. Scenderanno in piazza per protestare e chiedere interventi istituzionali di rafforzamento del personale di polizia e vigilanza nei reparti ospedalieri. La piazza serve per sottolineare a tutti, alla gente soprattutto, che non si trattano così i medici, non si trattano così le persone che si prendono cura della loro salute e che lo fanno naturalmente sempre per ottenere la guarigione o il miglioramento delle loro condizioni di salute. L'ultima violentissima aggressione è avvenuta pochi giorni fa ai danni di alcuni medici del Policlinico di Foggia presi a pugni da una cinquantina di familiari di una ragazza deceduta durante un intervento chirurgico. Due inchieste aperte della magistratura e della direzione dell'ospedale. Non vorrei che i nostri colleghi fossero aggrediti due volte. È chiaro che la magistratura deve accertare sempre le cause di un decesso quando ci può essere una responsabilità da parte di qualcuno. Se responsabilità ci fosse sarebbe una colpa medica e non sarebbe certo un dolo, naturalmente. Fermo restando che ho sentito i colleghi che hanno fatto il possibile per salvare una situazione già molto ma molto grave e precaria che perdurava da alcuni giorni. Però sinceramente mi sarei aspettato maggiore solidarietà e soprattutto una difesa per i propri dipendenti. Da richiesta unanime è un posto di polizia al Policlinico e vigilanza nei reparti. Gli accessi al pronto soccorso ma anche a tutti i reparti ospedalieri devono essere disciplinati, devono essere regolamentati e controllati. Ancora cronaca il giorno dopo la rapina, il sequestro e l'abbandono da parte di alcuni malviventi nei confronti di un orafor 48enne di Corato. C'è ancora tanta rabbia in paese tra i commercianti del settore. Sentiamo. Paura, rabbia, sconcerto. Sono i sentimenti di orafi e gioie ieri di Corato all'indomani dell'episodio che ha coinvolto un collega e concittadino 48enne. Rapinato, sequestrato e abbandonato nelle campagne tra Mariotto e Altamura mentre viaggiava sulla sua Audi Q2 lungo la SP231 nel territorio di Andria. L'uomo è stato vittima di un assalto di alcuni banditi. I malviventi, secondo la ricostruzione degli investigatori, viaggiavano su due auto, una Audi e una Volkswagen Golf. Una lo ha affiancato mentre l'altra lo ha speronato per bloccarlo. In un gesto intimidatorio uno dei rapinatori ha esploso un colpo d'arma da fuoco. Poi i banditi tutti incappucciati sono scesi dalle auto e hanno rapinato l'uomo sottraendogli denaro contante e gioielli preziosi per un valore stimato di oltre 300.000 euro. Dopo averlo derubato hanno sequestrato il 48enne liberandolo circa 40 minuti dopo nelle campagne tra Mariotto, frazione di Bitonto e Altamura sulla strada provinciale 89. Una volta lasciato solo l'uomo è riuscito a trovare aiuto e ha allertato alle forze dell'ordine. I gioielli del posto sono preoccupati e chiedono maggiori tutele. Voi che lavorate come commercianti a Corato siete spaventati per quello che è successo a questo vostro concittadino? Sì, si vive molto male, non si riesce a lavorare tranquilli e non ci aiutano da questo punto di vista. Ci dovrebbero essere più controlli ma in senso molto pratico perché noi non siamo per niente tranquilli e non viviamo bene. Il nostro settore è un settore che sta sempre sotto gli occhi, sotto i riflettori e quindi non ci fa vivere in maniera serena. Ho paura ogni giorno perché è un settore troppo pericoloso. Poi i forze dell'ordine a volte sono anche carenti, non sono più protetti insomma. Conoscevo di vista, collaboravamo qualche volta perché è un gemmologo di buona fama. Non so come cosa dire perché lui lavora non per il pubblico, per noi gioielli, per il nostro settore. Ecco perché è una cosa, è successa una cosa, qualche soffiatta sicuramente sarà stata. I rapinatori sapevano tutto, l'itinerario dell'orafo, l'esistenza di un fiume di contanti e gioielli. Avrebbero anche calcolato l'assenza delle videocamere di sorveglianza nella zona dove hanno messo a segno il colpo. Ora è caccia aperta alla banda su cui è lavoro la questura di Barletta Andriatran. E voltiamo pagina ma restiamo in Puglia, al Circolo Unione di Bari, la seconda giornata lab pugliese del Forum Ambrosetti. Vediamo come è andata. La Puglia è la terza regione del mezzogiorno per esportazioni, con una quota dell'1,6% sul totale delle vendite oltre confine in Italia. Nel 2023 il valore dell'export regionale ha toccato quota 10 miliardi di euro, registrando un aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Quanto alla Basilicata le esportazioni hanno raggiunto 3 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della seconda giornata del Lab Pugliese del Forum Ambrosetti, ospitato dal Circolo Unione di Bari e organizzato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e da Ex Privia. Un appuntamento diventato sempre più centrale. È importante perché si condividono le informazioni. Condividendosi le informazioni hai dialoghi più facili, come avere le stesse letture, aver letto gli stessi libri. E quindi consente un dialogo fra imprese, banca e territorio molto più facile. Nel corso della giornata si è discusso il tema della strategia verso sud, tra attrattività territoriale e internazionalizzazione delle imprese. Fra le città pugliesi, Bari è risultata la maggiore provincia per quota di export. Il 2023 si è chiuso molto bene per il mezzogiorno e in particolare anche per la Puglia. Un export di circa 70 miliardi di euro, una crescita del 3%, più del dato nazionale. Questo vale anche per la Puglia. I primi tre mesi dell'anno hanno mostrato una buona tenuta dell'export di tutta l'area del mezzogiorno. La Puglia inizia a dare i primi segnali di fatica e di rallentamento, ma questo lo vediamo proprio anche su tutto il territorio nazionale. Per due giorni l'Hub pugliese del Forum Ambrosetti ha dunque messo in primo piano lo stato di salute delle imprese meridionali, confermandosi appuntamento centrale nel panorama economico. La formula di Cernobbio Hub pugliese è una formula che funziona perché di fatto i grandi temi su scala nazionale e internazionale vengono portati sul territorio. Quindi bilancio senza dubbio positivo. Dalla Puglia alla Basilicata, inaugurata Piazzetta San Giacomo a Brindisi di Montagna nel Potentino, esposte anche tre steli risalenti al secondo secolo dopo Cristo. Vediamo. Uno dei quartieri più antichi di Brindisi Montagna può da oggi mostrare con orgoglio il frutto di un lavoro di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale e che ha portato alla realizzazione di diverse aree verdi e soprattutto della Piazzetta San Giacomo nell'omonimo rione. Inaugurazione in grande stile con banda e benedizione alla presenza del sindaco e dei residenti. Proprio loro hanno partecipato con orgoglio al frutto di questi lavori che saranno anche spunto per una reciproca collaborazione e partecipazione attiva nella cura dell'area. I lavori sono durati circa sette mesi per un costo di 137 mila euro con risorse rinvenienti dei fondi Poval d'Agri. È stata rifatta la pavimentazione con pietra bianca cotto sulle gradinate e pietra locale sulle aiuole. Piantati alberi di acero rosso e siepi con bacche colorate, fari per l'illuminazione e soprattutto è stata realizzata un'edicola con l'effigie di San Giacomo proprio in quel luogo dove nel secondo secolo dopo Cristo sorgeva una chiesa in onore del Santo. Da eruderi dell'edificio sono stati trovati prima ed esposti oggi degli steli romani con iscrizioni epigrafiche latine, ulteriore conferma della storicità del borgo di Brindisi-Montagna. Una riqualificazione urbana che viene proprio da quel senso, dal senso di comunità, dal senso di riqualificazione con un'attenzione alla storia, all'identità di un posto e qui è proprio quello che volevamo rappresentare con questo lavoro, questo legame con San Giacomo, un legame con la storia, un legame con l'identità e spero che questa sia apprezzata da tutti i Brindisini per sentirsi legato non solo al Santo ma soprattutto a quella che è la propria storia, la propria identità, la propria cultura e di avere questi insegnamenti che ci provengono dal passato e che vengono soprattutto trasferiti ai nostri figli. Ora a Matera dove si è conclusa la prima Podcast Academy per il Sud Italia un progetto organizzato e finanziato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con il supporto di Cora Media. Si conclude la prima edizione della Podcast Academy per il Sud Italia su iniziativa della Fondazione Matera Basilicata 2019. Dalle prime elezioni di giugno si è giunti alla conclusione del percorso formativo che ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia tra autori, sceneggiatori, progettisti culturali, giornalisti, ricercatori, registi e fotografi sia come individui che rappresentanza di organizzazioni o istituzioni culturali. La Podcast Academy South Edition è stata condotta dai professionisti di Cora Media la principale podcast company italiana. Ottimo percorso, 40 partecipanti da tutto il Sud in questo momento finale stiamo ancora capendo come si scrive il pitch per un podcast quindi è stato un percorso anche di grande tecnica per entrare nel merito degli argomenti una delle cose più belle che è successa è che i partecipanti hanno iniziato un percorso individuale molti invece poi si sono uniti su un tema comune per lavorare insieme. In questi quattro mesi di lavoro abbiamo insegnato come si progetta, come si scrive, come si registra e come si sonorizza una serie podcast a 40 professionisti del Sud Italia che hanno aderito ad un bando. L'auspicio è che dopo questa Academy possano portare nel territorio dei progetti, delle storie realizzare delle serie podcast, da mettere in un mercato sempre più bisognoso di storie con un italiano su quattro che oggi ascolta un podcast ogni mese e nel Sud Italia c'è sicuramente una miniera di storie che ha l'opportunità di emergere e anche di aiutare l'organizzazione a far conoscere le proprie attività. Quindi è stata anche l'occasione per creare nuove sinergie e stimolare magari future collaborazioni. Esatto, perché uno dei temi che è emerso sin dall'inizio è proprio il fatto della necessità di mettere in rete i professionisti del territorio. La cultura fino a domenica il Nymfea Festival della Rigenerazione sulle rive dei laghi di Monticchio. Ieri presente il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. Vediamo. Sulle rive del lago grande di Monticchio si concluderà domenica 8 settembre la prima edizione del Nymfea Festival della Rigenerazione che per due fine settimana ha trasformato la spiaggia delle Nymfea in uno spazio di scambio culturale grazie a un ricco programma di eventi gratuiti. Incontri e performance hanno intrecciato le riflessioni sui temi della rigenerazione territoriale e dello sviluppo sostenibile con momenti di spettacolo e di immersione nella natura del Monte Vulture. Tra gli ospiti più attesi il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. La crisi climatica forse per il fatto che riguarda tutto il pianeta è quella più diffusa, più universale, più generalizzata e oltretutto va a influire sull'energia, sui trasporti, su come vivi e dunque quella probabilmente anche quella più grave perché procede rapidissima e molto accelerata. Ma c'è una crisi ambientale più generale che riguarda per esempio l'impoverimento della ricchezza della vita, la cosiddetta biodiversità, se tu parti all'estinzione degli altri viventi poi dopo perdi un patrimonio, vorrei dire di conoscenza, oltre che di interrelazione fra le specie. E poi c'è una crisi di deterioramento della qualità della vita perché se tu respiri male, bevi male, mangi male, questo si traduce poi in un problema singolo, soprattutto nei posti in cui le persone sono più povere, perché non dimentichiamoci che noi subiamo la crisi molto meno di quanto non la subiscono quelli che vivono nel resto del mondo, meno fortunati e meno ricchi, cioè la stragrande maggioranza dei Sapiens, perché questo non ci dobbiamo dimenticare. La chiusura del festival sarà affidata al chitarrista dei Subsonica, Max Casacci. E ora ci trasferiamo a Vigiano, in provincia di Potenza, grande successo per la Sagra del Ferricello. Le tradizioni ci rendono le persone che siamo, quindi dobbiamo esserne assolutamente fieri ed è bellissimo essere qui e concludere questa estate, che è stata una bellissima estate, meravigliosa e quindi buona festa a tutti e soprattutto vive Ferricello! Si conclude con il Botto, il programma del cartellone estivo in vetta ad un sogno, promosso dall'amministrazione comunale di Vigiano. Si è registrato, infatti, un grande successo di pubblico per la nonna edizione della festa del Ferricello Vigianese. Il prodotto principe della tradizione gastronomica locale, rigorosamente fatto a mano, è stato il vero protagonista di una serata all'insegna della condivisione e del divertimento. Continua, dunque, il percorso di valorizzazione di una pietanza che ha ottenuto negli anni scorsi i prestigiosi riconoscimenti DECO e PAT. L'evento è stato organizzato dall'Associazione dei Custodi delle Tradizioni Vigianesi in collaborazione con l'amministrazione comunale di Vigiano. Una splendida festa, devo dire, anche con una splendida madrina. Siamo alla nona edizione della festa del Ferricello e vedo che anche a settembre c'è grande partecipazione. Quindi ciò significa che si è creato un affetto per questa festa. Questo mi emoziona, mi rende pieno di orgoglio e ci spinge insieme all'Assessore all'Agricoltura ma a tutta l'amministrazione, all'Associazione dei Custodi delle Tradizioni Vigianesi a fare di più, a offrire sempre una festa più bella e a far crescere sempre di più questo prodotto che è diventato uno dei prodotti, con il riconoscimento che ha avuto anche a livello regionale, di quelli che sono i prodotti da offrire nel paniere della Val d'Agri. E questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito Linea alla Regia.